Siamo in epilogo Vittoria per Davide Simorai! Vittoria per Davide Simorai! Davide Simorai, che volata! Che emozione, finalmente è arrivato quello che aspettavo da tanto tempo, dopo anni di sacrificio a disposizione dei miei capitani, oggi sono riuscito finalmente a raccogliere una bella vittoria in una corsa che mi è sempre piaciuta sin da tantissimo tempo. Era una tattica forse già decisa, i tuoi compagni di squadra, come giustamente ha sottolineato Pocanza, hanno lavorato tantissimo, quindi già da questa mattina Davide Simorai era l'uomo della Lampre Merida. Come ho detto sapevo comunque di avere una buona condizione, quindi alla fine anche il percorso ha fatto selezione e nell'ultimo strappo ci siamo guardati in faccia io e Niem, che eravamo rimasti solo io e lui della squadra. E quindi devo ringraziare in primis Niem per il lavoro che ha fatto e poi tutti gli altri compagni perché abbiamo dimostrato di aver corso bene e vincere era il minimo che potessi fare per tutti. Una vittoria importante in una classica importante come questa, ora ti consente di guardare con grande ottimismo ai prossimi appuntamenti? Sicuramente da morale per i prossimi appuntamenti e quindi meglio di così non poteva andare, era un modo anche per ringraziare il team Lampre che mi ha colto qui e questo è il quarto anno con loro e credo di averli ringraziati nel miglior modo possibile. Attenzione è il gran finale, attenzione sepellezzi in questa partita di corta, vince Simorai, vittoria per Davide Simorai, Davide Simorai, il friulano.